Saluto tutto il popolo della famiglia che ci sta guardando su Facebook, ringrazio i colleghi giornalisti presenti qui, vi ringrazio perché siete stati vicini, fedeli, vi ringrazio per tutto il lavoro che avete fatto in questi 20 giorni che vi abbiamo mandato delle comunicazioni, quindi un applauso a questi giornalisti, colleghi perché ci sanno in sanno veramente. Ora è il momento di presentare la vista, i candidati al comune di Conegliano, di cui io sono candidato sindaco, ringrazio appunto il popolo della famiglia che ha avuto Gianfranco Amato, segretario nazionale del popolo della famiglia, Gianfranco e Mario Di Nolti, Nicola Di Matteo. Prima di cominciare non per una questione, una preghiera, ma soltanto un segno di croce per ricordare chi siamo e qual è il senso di tutto. Un segno di croce. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Torniamo ai ringraziamenti, torniamo a questa squadra che si è unita su Conegliano con coraggio, abbiamo il desiderio di cambiare questa città, di mettere in pratica cosa significa fare politica, perché fare politica come la fanno oggi i nostri amministratori è un doppione. In questi giorni mi sono accorto che la figura del sindaco o dei consiglieri o dei assessori è un doppione, perché parlando con alcuni dipendenti del comune, mi sono accorto che sono loro coloro i quali mandano avanti un'amministrazione. Non c'è bisogno di una politica così come è oggi la politica che manda avanti un'amministrazione. Fatta eccezione che il politico non abbia progetti nuovi di grande cambiamento e noi ce li abbiamo. Noi vogliamo fare l'università della musica, noi vogliamo portare avanti le aperture dei progetti commerciali in giro per il mondo, ma soprattutto vogliamo far ritornare ciò che è più importante nella nostra esistenza, la centralità della famiglia, che è composta da un uomo e da una donna, che attraverso un atto di amore danno la vita ad altre entità, i figli. Noi viviamo una dittatura di un pensiero unico e abbiamo questo terrore di questo gender, di questa identità di genere, perché come dice spesso Gianfranco non esiste la parola gender, esiste identità di genere, ma non vogliamo affrontare di nuovo questa tematica perché questo è l'incontro stampa per presentare la lista della lista dei candidati del popolo della famiglia secondaria. Io non voglio trattarmi più di tanto perché so che ci sono questi colleghi che non possono stare qui più di tanto. I candidati, le persone che ci conoscono, conoscono già le nostre argomentazioni. Ringrazio Gianfranco Amato per essere qui con noi, tra l'altro. Ringrazio tutta la comunità che ci sta aiutando, anche quelli che non sono candidati qui a Corigliano, ce ne sono tantissime persone, c'è la Daniela, c'è Angelo Torforo, c'è la Luciana, ce ne sono un popolo, un esercito che sta crescendo ogni giorno. Noi vogliamo cambiare, non con Egliano, ma vogliamo dare l'esempio di cosa significa essere amministratori di una città. Noi dobbiamo aprire i mercati nel mondo, ma devi essere capaci di aprire i mercati nel mondo. Qui viviamo una crisi, il Veneto è schiacciato dalla crisi. Abbiamo 20 miliardi rubati dalle banche popolari, mai più restituiti e non saranno mai più restituiti a nessuno. Non c'è stato un politico veneto e ne un politico italiano che si sia preso la cura di difendere questo furto legalizzato, autorizzato, mascherato dalle banche centrali europee che si sono rubati da questo territorio 20 miliardi di euro, veneti schiacciati dalla crisi. La politica italiana non ha affatto creato una commissione, la Banca d'Italia è all'80% a mani privati, quindi noi non abbiamo nessuna tutela, noi abbiamo una politica, una classe dirigente politica incapace e noi abbiamo il dovere, sacrosanto, di ricostruire non solo con gli animali, ma dare ad esempio nel Veneto e in Italia che questa città sa amministrarsi da sola. Quando io parlo di città-stato è una provocazione, perché i soldi non ci sono. Questo paese ha il debito più alto di tutta Europa, ha la più alta disoccupazione e ha una decrescita che fa paura. Noi non vogliamo, e voi sapete benissimo che qui a Conegliano la giunta di aria cristiana di destra ha deliberato e patrocinato i corsi LGBT, gay, bisessuali e casessuali, che il popolo della famiglia ha avuto il coraggio di entrare dentro l'aula, provocare una protesta nella docilità e nella carità. I giornali, appunto ringrazio i giornalisti, hanno scritto che il popolo della famiglia ha fatto un blitz a quei corsi, non sono più andati nessun docente a ascoltare queste persone. Quindi il politico deve fare questo, azione e non avere paura. Oggi il centro-destra dichiara che non faranno più i corsi LGBT a Conegliano e si preoccuperanno solo della famiglia naturale. È una bugia, è una grande bugia perché i loro capi hanno già legiferato quella legge, la legge è già passata, nessuno la può fermare, fatta eccezione che il sindaco e la sua giunta abbia i cosiddetti e abbia il coraggio con la forza e l'autorità che ha il sindaco, perché il sindaco ha il potere pieno di fare le sue scelte, come ha il potere di dire da oggi in poi nello sperare di Conegliano non ci sarà più un aborto. La legge non lo prevede, ma il sindaco può, con autorità, con la città, perché questo deve fare il politico. Non abbiamo bisogno di un politico, ma c'è la legge, sono passate le leggi, hanno preso in giro tutti i family day, tutti ci sono fatte le foto, come si chiamano quelle foto con il telefonino di Sergi? Ecco, poi alla fine hanno deciso di fare quello che hanno fatto, hanno gettato la spugna completamente verso i nostri valori che non sono solo italiani, ma sono europei, appartengono al mondo, perché noi siamo con la Chiesa, non siamo un partito movimento confessionale, ma noi, io personalmente, credo nella risurrezione di Cristo e questo deve essere un valore portante per tutti quanti noi, l'Italia era e dovrà ritornare il centro della cultura, della fede e dell'amore e della carità. Quindi qual è il vero compito oggi? Il vero compito che dobbiamo fare è combattere e non avere paura né delle minacce di morte né delle cattivelle che ci fanno, perché la politica oggi sta preparando la legge sull'eutanasia che passerà, fatta eccezione che noi non diamo un segnale forte e potente in Italia con queste amministrative per andare poi alle politiche, legalizzare la costituzione della droga mi pare che sia una cosa orribile, l'utero in affitto mi pare che sia una bestialità che neanche nei cento anni fa si allontrava durante la seconda guerra mondiale, non dico altro perché dopo magari qualcuno può dirmi che dico cose che non vanno bene, ma a buoni territori poche parole. Quindi noi dobbiamo lavorare, la politica di oggi ha gettato la spugna, la politica di oggi darà la mano ai narcotrafficanti della Colombia, darà la mano ai deinquenti della prostituzione mettendo in schiavitù le donne, perché la prostituzione legalizzata significa mettere e condannare ancora di più, legalizzare la prostituzione mettendo in crisi la donna e facendo le violenze legalizzate. Questo non è un modello di politica, la politica deve difendere, qui c'è la legge sull'eutanasia, noi dobbiamo investire soldi per la ricerca, il medico quando si laurea, e qui abbiamo un dottore Alberto, quando tu ti hai laureato hai giurato di salvare la vita, non di ucciderla. Cosa deve nascere? Un'altra facoltà per uccidere i bambini o una persona anziana o una persona, il fatto è che un ragazzo a 22 anni se ha una crisi di depressione, va a un medico, si fa fare la prescrizione e si uccide, questa è la fine dell'eutanasia, la legge dell'eutanasia. E poi c'è la legge dell'incesto, che qual è il fine della legge dell'incesto, che nel reato della pedofilia non esisterà più, perché un padre può sposarsi con la figlia, con la mamma, il fratello, con la sorella, ma questi sono temi che non affrontiamo oggi perché l'abbiamo già detto, ci sono i colleghi giornalisti che dobbiamo presentare la lista e questo è il lavoro che noi dobbiamo fare. Quindi non crediamo a quello che ci dicono le politiche locali, le politiche locali dicono che cambieranno i temi, non possono cambiare perché è già diventata legge. L'unico modo per cambiare le cose è che il sindaco e l'amministrazione nuova abbia il coraggio e la forza di cambiare le cose con tutto quello che serve, con tutta l'energia e con tutta la passione e con tutta il coraggio e anche la fede. Perché noi non siamo uomini coraggiosi, abbiamo anche noi paura, ma abbiamo quel po' di fede che ci dà la forza di cambiare le cose e il tavolo è inclinato in questo momento e si sta inclinando ancora di più, dobbiamo dare un pugno a questo tavolo inclinato per rendere l'orizzontale e di costruire una nuova civiltà, ce la stanno togliendo. E come ho visto un video l'altro giorno con Gianfranco, l'altra sera, di un pullman in Spagna dove faceva la pubblicità della famiglia naturale, uomo e donna. Il Vescovo, il Vescovo, come si chiama? Il Cadenale. Il Cadenale, ecco. Sapete cosa è successo? È stato messo sotto inchiesta, i gruppi LGBT hanno fatto manifestazione, hanno protestato solamente perché qualcuno ha avuto nella docilità e nell'amore di dichiarare che la famiglia è composta da un uomo e da donna. Se noi non possiamo più dire che la famiglia è composta da un uomo e da donna, vuol dire che viviamo in un clima di dittatura. E questo è il clima, noi forse non ce ne diamo conto, noi viviamo, siamo assopiti e come diceva ben tante volte Gianfranco, i poteri forti, i grandi macchini della comunicazione, è un popolo assonnato, porterà a una dittatura che prevede il nostro essere fermi, addormentati, e usatemi, anzi non dico più questa parolaccia, non voglio dire, proprio addormentati. E noi siamo stanchi, quindi il popolo e la famiglia ha il dovere di alzarsi in piedi, di difendere questa città, di dare l'esempio in tutta Italia di come si deve amministrare un comune. Questo è quello che volevo dire, ho in basso la parola la parola molto molto. Se ti chiamiamo, vuoi dire qualcosa? Magari approfittiamo del fatto che ci siano i giornalisti, se vogliono fare qualche domanda, e poi o presentiamo più una lista. O presentiamo, come volete voi. Presentiamo, sentiamo magari le esigenze di giorno. Avete qualcosa da chiedersi? Viva il nostro segretario nazionale! Nel progetto di Ponegano lo sapete tutti, l'avete già scritto sui giornali, se volete ve lo ripeto, ma io direi di presentare la lista. Quindi chiamiamo tutti i candidati qui, ci mettiamo tutti in piedi, così fotografi uno per uno allora. Allora, chiamiamo subito Romina Giacetti, sono la grata giurisprudenza, sono mamma, una ragazza madre di un bambino di 11 anni. Hanno tentato di farmi avortire, ma non ci sono più. Brava! Brava! E niente, sono impiegata commerciale presso un'attenda. Vi batto per questi valori e spero che il nostro contributo a Conegliano, da un punto di vista pratico, porti anche beneficio, sia da un punto di vista morale, ma anche da un punto di vista, cioè portare all'interno dei negozi, aumentare un po' l'economia dei negozi, cioè farci carico di quelle che sono le problematiche della città. Questo è il punto di vista. Bene, poi abbiamo la nostra giornalista Gloria Callarelli, candidata anche lei alla Comune di Puglia. Ciao a tutti, io sono Gloria Callarelli, scusate, ho poche voce, ho 32 anni, sono laureata in scienza, comunicazione e produzione multimediale, sono moglie e sono mamma di due bambini, Francesco e Giovanni, e proprio questo essere mamma, dopo aver sentito le conferenze dell'Avvocato Amato e gli interventi anche del Presidente Mario Di Nolfi, mi hanno convinta a scendere in campo. È il momento giusto perché adesso c'è l'attacco più forte ai nostri bambini, i nostri, i vostri, insomma, i nipotini. È giusto metterci tutto noi stessi, diciamo, per cercare di fermare questa deriva. Con Egliano io ho sposato il progetto anche per un discorso dell'arte, mi piace molto l'arte e mi piace molto il discorso dell'Università della Musica. Mi piacerebbe proprio che si realizzasse il discorso quartiere della musica, quindi portare degli eventi proprio che facciano rinascere il centro di Conegliano, che è parecchio, come vi dicono, insomma, morto, fra virgolette. Spero che potete leggere Lorenzo perché è una persona meravigliosa e si sta battendo anima e cuore per questo progetto. Grazie. Lorenzo Tonon, sono un imprenditore, 52 anni, tre figli, sposato con tre figli e appunto come padre sono stato veramente coinvolto già con i Family Day, sono stato presente e sono convinto che la famiglia sia il mattone della società, per cui se questo mattone è forte, è solido, tiene su la casa della nostra società e penso che questo sia essenziale se vogliamo dare un futuro migliore ai nostri figli. Grazie. Si chiama, si presenta lei. Passiamo una foto di gruppo? Va bene. candidati in piedi. Allora, candidati in piedi. Viva il popolo e la famiglia! Evviva! Grazie. 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 Bravi. Il bastone della macchina. Guarda. Grazie. 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 Allora, iniziana, andiamo avanti. Quarta volta. Grazie. Allora, io sono iniziana a Campania, ho 41 anni, non ho figli perché mi sono sposata a Duglio, quindi speriamo. Mi sono sposata con un belto Roma, il mio suocero è Bruno Roma, non lo devo dire perché i gran famiglia sono qui. Ma sei la nuora di Coneglia. La nuora, eh. Credo nella famiglia, nella casa, se mi sono sposata a 41 anni, 40 ne avevo, è perché credo nella famiglia. Oggi vedo troppo promiscuità, coppie, conviventi, compagni, siamo compagni da scuola, no? Siamo un villaggio estero, no? Va bene. Ok, oltre ad essere nuora, sono un'iniziatore di condominio e i miei due punti principali, oltre a quelli che ovviamente fanno parte dell'ideologia del popolo della famiglia, è far rinascere il centro, come dicevano le mie colleghe, perché veramente la città di Conegliano è una bella città, però ultimamente l'avevo un po' spenta e c'è il problema della sicurezza su cui bisogna puntare perché ci sono dei quartieri dove purtroppo lasciate la deriva, negozi chiusi, poca illuminazione, diventano luoghi pericolosi anche per i nostri giovani. Quindi questo mi preme molto e poi anche gli anziani, io faccio un po' il volontariato con gli anziani e come dico spesso loro sono i veri educatori dei vostri figli e non questi gruppi che fanno questi corsi improbabili. Tutto qui. Ciao, sono Angela Fabretto, ho 32 anni, lavoro in un estude legale, ho finito la pratica forense, e adesso sono in attesa di fare l'esame di Stato. Diciamo che mi sono avvicinata ai valori del popolo della famiglia, pur non essendo madre ho comunque due nipoti, amo i bambini e ho la volontà di tutelare i diritti dei bambini ad avere comunque una loro identità e crescere in un ambiente sano, una famiglia unita fondata non solo sul matrimonio ma anche sull'unione tra un uomo e una donna. Sono residente a Conegliano quindi vedo il degrado che la città ha vissuto negli ultimi anni e sostengo quindi che debba essere incentivata l'arte, la cultura e sostengo anche il progetto dell'Università della Musica essendo io amante della musica, sono pianoforte, quindi secondo me l'arte e la musica è un collegamento, è uno strumento per avvicinarsi all'anima delle persone. Grazie. Vieni anche tu. Tania. Tania Torresi. Tania Torresi. Buonasera a tutti. Io sono mia Tania Torresi, ho 46 anni, sono psicodora e psicoterapeuta e sono una mamma lottiva di un bellissimo bambino. Io svolgo la mia vita da libero professionista tra le famiglie e lavoro anche nel settore migrazione e spero di poter portare il mio contributo proprio in questo ambito anche. Brava. Carla. Io vi chiamo per nuovo che si sperimentano loro. Buongiorno a tutti, sono Carla Condulso, sono un avvocato canonista. Brava. Grazie. Vado a dire che vedo il matrimonio tra uomo e donna dalla parte peggiore quando è ferito ed è esattamente per questo che vi dico che la cosa più bella e più gioiosa quando un matrimonio tra uomo e una donna non lo è, non è ferito. Porta gioia, porta amore, porta costruzione di società, porta bellezza, cultura, arte, sono tutte un'emanazione da questo. Solo da questo si può costruire. E senza questo c'è poco da fare. Io auguro a tutti, anche a coloro che non credono ai nostri valori, felicità e gioia. Mi sembra un po' difficile però. Io lo auguro. Che lo auguriamo tutti. Ma noi lo chiamo per amare. Grazie Carla. Adesso la Lucia, no, tu Lucia devi venire perché devi dare la testimonianza di cosa fa una mamma e una moglie. Buongiorno. Allora mi chiamo Lucia Vecchi, io vivo e risiedo a Padova, ho lasciato il mio lavoro da assistente sociale perché ho iniziato il lavoro che per me è il più bello del mondo, mamma al cento per cento, è veramente un amico rifiorito, ho avuto anche la fortuna di avere un marito che mi ha permesso di poter fare questa scelta e una cosa, uno zio che ha creduto moltissimo in questo e ha consegnato a Velle e le sorelle il cosiddetto reddito di maternità che verrà proposto. Quindi sono l'esempio di quanto sia meravigliosa questa iniziativa. sono rimasta affolgorata un anno e mezzo fa da una conferenza dell'Avvocato Amato e per un anno e mezzo ho vagato sola e sperduta a Padova senza trovare un'anima buona con cui condividere. E finalmente ho incrociato questa splendida persona Lorenzo Damiano e ho detto io non posso non far parte della squadra. grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 per situazione di famiglie rurali, una situazione che ha 50 anni, attività in tutto il mondo, perché partiamo dal Brasilio e dall'Argentina per finire in Africa, dove sono andato anche tre volte anch'io, attività a livello locale, ma comunque il perno, come si dice, la vision, non dico neanche la vision, la vision che ha questa associazione è la famiglia e i valori rurali, che andiamo un po' verso. Grazie, adesso chiamiamo Silvana, Silvana che è una donna straordinaria, ha gestito multinazionali e noi la vogliamo perché vogliamo rilanciare Conegliano, tra l'altro abbiamo cadato con il Ministro, non ricordo il nome, in Repubblica cieca, che spero che venga qui, che ci testimoni come loro danno 4 anni di vendito di materialità alle mamme che aspettano un bambino, quello deve essere l'esempio che noi dobbiamo dare in questa città, in tutta la regione, in tutto il paese e in tutta l'Europa. Ciao, buongiorno a tutti, io mi chiamo Silvana Alberto, ho 66 anni, sono felicemente in pensione, sono nonna di uno stupendo bambino di 3 anni, io praticamente ho conosciuto il popolo della famiglia guardando alcune conferenze dell'Avvocato Amato su Youtube e poi ho una carissima amica a Siena, che lei è la referente per la Toscana e ho avuto diversi incontri con lei, diversi scambi e da lì ho cominciato a informarmi perché io abito a Padova, ma non sono di Padova, sono di Ivrea in provincia di Torino e da due anni che abito a Padova, allora ho chiesto a questa mia amica, io cercavo disperatamente una persona del popolo della famiglia con cui iniziare questo percorso perché lo sento proprio e questa mia carissima amica mi ha presentato questo favoloso personaggio che è Lorenzo Damiano, io l'ho contattato per telefono e ho partecipato alla prima riunione a Rubano e da lì continuo ad andare avanti e dico io mi batto nel mio piccolo per questa causa perché la sento veramente tanto e sono dell'idea che i bambini devono avere un amato, un papà e i genitori devono essere gli unici educatori di queste gran cose. Bene, Fabrizio Cisera, manca ancora il suo figlio che è il famoso novello, il 21enne che fa parte del nostro gruppo ma sta tornando da Montpecato, speriamo che arriva. Buongiorno a tutti, scusatemi ma fisicamente non sono ancora al 100%, mi chiamo appunto Fabrizio Cisera, ho i 52 anni, sono padre di tre figli, di cui continuiamo per scelare solo Lorenzo e sono felicemente sposato da 25 anni, quest'anno faccio appunto l'anniversario. Ecco, il mio aspetto è dare appunto il volontariato, io sono appunto un vigile proprio volontario, porto la mia esperienza in questo campo perché questo campo di Giro del Cuoco è una grande famiglia che sto vivendo adesso in questa nuova avventura che parallela appunto a quello che vedo nel mio ambito, che sto vivendo nel mio ambito di vigile del Cuoco. Spero che questa bella storia continui e vada oltre a quello che possiamo immaginare, anzi andrà oltre. Grazie a tutti. Adesso chiamo Silvestro, è un imprenditore che fa un ottimo caffè, straordinario, conosciuto in tutto il mondo. Io sono Sokai Silvestro, ho 53 anni, ho un'attività, mi sento vedere, vabbè, chiede a fe, sono carri di due bambine, mia moglie, lei lavora con me, faccio parte della parrocchia di Conegliano, sono anche iscritto ai sui accompagnatori, con gli anni, giusto? Gilberto, girando un po' anche queste, diciamo, posti di varianti, diciamo, si vede la sofferenza di tante famiglie, ecco, vediamo che c'è, allora mi porta un po' anche a cuore di vedere questa sofferenza che c'è, io cerco di indirizzarli, più in parte anche portare la testimonianza mia, come dice anche l'anno giugorico, diciamo, non sarebbe testimonia, cercare di aiutare un po' anche delle famiglie che avevano un po' di confuscamento, ecco, e cerchiamo un po' di aiutare la stabilità Conegliano che veramente negli ultimi anni è proprio spenta, si vede, anche, dicevo, sabato ho portato un cliente dall'America, ho lavorato in giro poi in Conegliano e abbiamo visto che, cioè, di fatto tutti i negozi sono chiusi, erano 3 del pomeriggio, 3 mesi del pomeriggio, voleva vedere la sala di battuti, era chiusa, di qua era chiuso, ma da noi è aperta 24 ore al giorno, ecco, cercare di risistemare un attimino anche questa bellissima città che abbiamo. Prendo temporaneamente il posto del candidato sindaco perché adesso fa l'intervista con il posto del candidato, è sicuramente veneta, e andiamo avanti, e quindi chiamo ancora Ivano Casagrande, poi Paolo Fradal. E anche te, sì. Dopo mi presento anch'io. Ciao a tutti, sono Ivano Casagrande, ho 54 anni, sono diplomato in agraria, conduco un'azienda vinicola, viticola anche che vinicola, quindi conosco un po' le situazioni che abbiamo noi agricoltori in questo periodo, un po' dura. Sono in contatto diverse ore al giorno con i ragazzi e con i giovani perché parte del mio tempo, buona parte del mio tempo lo dedico ai giovani perché sono allenatore di calcio e vorrei portare nel comune di Conegliano persone di giovani perché vedo che per i giovani e per lo sport siamo molto molto lontani da avere lo spirito sportivo, quindi il stare insieme, l'educazione che manca, ecco questo è il mio regalo. Già che ci sono mi presento anch'io, sono Damiano Cattarin, ho 32 anni, ho conosciuto tre anni fa l'avvocato Gianfranco Amato quando venne, lui è da quattro anni che gira tutta l'Italia, quindi quando venne a Ferrara gli aprì le porte del seminario dove ero e dopo lo accompagnai verso l'una e mezza di notte che eravamo stati a parlare con il rettore del seminario e da lì è nata, come dire, la seconda vocazione, quella dell'impegno per il popolo della famiglia. Infatti non appena ho uscito dal seminario, lo scorso anno mi sono candidato sindaco a Villorba con il popolo della famiglia. Dopodiché abbiamo continuato l'impegno in Regione Veneto con un gruppo di amici e collaboratori e quest'anno siamo qui. Io sono impiegato tecnico per gli impianti idraulici e meccanici e poi faccio un po' di tutto insomma. Paolo Pradal Buongiorno a tutti, sono Paolo Pradal, ho 69 anni, attualmente in pensione di formato industriale e ho lavorato in diverse aziende metameccaniche. Sposato, padre, due figli e tre favolosi nipotini, di cui la più piccola mi occupa anche un po' credibilmente. Io provengo, faccio parte del Movimento per la vita di Coneliano, sono anche del gruppo del Croce Rossa di Sulegana e ho condiviso, quando mi è stato proposto, ho condiviso il programma i valori ideali e per questo cerco di dare il mio piccolo contributo per quanto posso. Grazie a tutti. E del Movimento per la vita è neanche presidente, giusto? No, sono del divertido. Del divertido, giusto? Allora, chi monta, vediamo un po', e c'è Roberto Barbirato. Poi c'è Fabio Mariuzzo. Buongiorno a tutti, sono Roberto Barbirato. Io sono marito, papà di quattro figli. Non ho grossi titoli come i miei colleghi, sono un impiegato tecnico. La cosa che mi ha colpito ancora un paio di anni fa, appunto, un convegno fatto dall'avvocato qui al centro Zoffas Arena Conegliano. C'erano 1.200. Era un bel gruppo. E diciamo che la cosa ha cominciato un po' a incuriosirmi più che altro perché parlando con le persone a me vicino, nell'ambito del lavoro, del catechismo, di altre cose, si diceva ma è impossibile che in uno stato come l'Italia ci siano queste, si possa avere poi questa possibilità del genere all'interno, questa teoria di questo pensiero unico all'interno della scuola. Ma no, ma guarda che ti sbagli, la stai prendendo un po' troppo alla grande e così via. Quindi sono stato un po' latente in questi due anni. Ultimamente però mi è stata proposta questa candidatura e ho detto sì, ho approfondito un po' anche il pensiero, il discorso, ho letto, mi sono informato e penso che forse sbagliare sono gli altri, che non è una cosa alla leggera ma è veramente un qualche cosa che è talmente silente che nel momento in cui ci renderemo conto ormai sarà forse troppo tardi. Quindi il mio impegno in questo momento sono due braccia, una testa a disposizione. Ma soprattutto un cuore. Fabio Mariuz. Allora, sono Fabio Mariuz, sono papà di tre figli, due infermiere, è un laureato in ingegneria. Io sono commerciale, ho fatto commerciale per diverse aziende e sono nonno, ho l'orgoglio di essere nonno con due meravigliosi nipotini che vedo lì addormentati con questi smartphone, con queste cose qua. Una volta li avevo sempre addosso perché avevo il gusto di essere nonno con i bambini, adesso sono addormentati così. ho detto ma è possibile che la società deve essere questa con questi ragazzini. E diciamo che l'idea di Lorenzo Damiano di fare l'università della musica, io mi ricordo che mio figlio l'ho tirato via da certe compagnie proprio insegnando a lui a suonare il pianoforte. quindi il pianoforte è stato un suo modo di elevarsi e di stimarsi e così. Quindi il progetto che sta portando avanti Lorenzo Damiano l'ho condiviso al 100%, lo riconosco. E diciamo che lo vedo come una seconda missione, la prima missione è mia, quella della mia famiglia ovviamente, e lo vedo come un bellissimo gruppo, una vera famiglia. La F2 ci si vuole bene, ci si rispetta, ci si dice anche quello che ci si deve dire ovviamente, però con l'impegno di poter portare avanti un progetto che ovviamente il nostro carissimo generale sta portando avanti tutta Italia e siamo sicuri che avrà successo. non sono più piaciato perché parlo con le persone, a tu per tu, con le persone che spiego i progetti e trovo tutti che veramente condividono completamente questa nostra strada. Ecco, auguro ovviamente che veramente facciamo un grande successo. Perenzio Zanis, benvenuto. Buongiorno a tutti, Zanis Perenzio, 56 anni, sono ottivo del provincio di Treviso e faccio parte di questo movimento coinvolto dalla nostra gloria Tannarelli che mi ha presentato Lorenzo un tempo fa e porto con me una piccola esperienza preternale. condivido i valori di questo movimento che parla della famiglia in sé, dei figli e proprio dei figli mi sento di parlare di quello che dobbiamo lasciare noi, i nostri figli un domani. Un mondo migliore, con dei valori che attualmente non ci sono più. Niente, spero di poter portare il mio contributo con questa esperienza che ho. Grazie. Grazie. E Robin Cisera, non è arrivato? Papà? No. Poi abbiamo Alex Finori che è il nostro specializzato in... adesso è andato un attimo fuori, comunque lui è specializzato in arti multimediali, quindi arti comunicative, ecco. E dopo c'è Ever Geno che lui è capo cantiere edile, quindi lui dirige i cantieri edili. Poi abbiamo ancora Marco Trombini che lavora ai turni all'Elettrolux, o come si chiama? Elettroveneta? Elettrolux. Elettrolux. Elettroveneta? 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 Allora, va bene. Avete messo delle bellissime foto, vi ringrazio, siete stati splendidi. Siete l'esempio di coloro i quali, come giornalisti, devono servire nella verità e informare il popolo. Questo è il vero giornalismo, non quello che ci vogliono far sentire o ci vogliono farlo dire o ascoltare. Questi bravi giornalisti, io devo dire veramente bravi, siete stati bravissimi. Parteciperò a questo incontro che si svolgerà il martedì 23 maggio alle ore 20 e 30 presso l'auditorio di Naorsi. E' un incontro con i candidati sindaci, io ci sarò e annuncerò quello che dovrò fare. E comunque su Conegliano state più certi che questo movimento popolo della famiglia vincerà. Questo vincerà perché il comitato, come ho detto alla televisione pochi istanti fa, deve dire la verità. Non importa quale sia la materia, l'origine o la teoria o l'ideologia. L'importante è che dicano la verità, che ci sia coerenza. Ecco perché mi sono radiato con questa delibera dell'LGBT, scusate se ritorno su questo aspetto. Me lo sarei aspettato di aver trovato più coerente se l'avesse disposto il Partito Democratico. Ma come fa una giunta di centrodestra cristiana che va a Mesa tutte le domeniche in prima fila a deliberare una cosa così orribile? E questo è il motivo per il quale noi dobbiamo battere in prima fila perché noi vinceremo non perché siamo più coraggiosi, ma perché abbiamo quel po' di fede che il Signore ci ha donato. E chi è con Gesù vince sempre. Bene, dopo questa carrellata di candidati, cosa bisogna aggiungere? Beh, se non che... ho sperato che abbiamo un comune denominatore interessante. Anch'io sono un pianoforte. Quindi questa cosa della musica deve avere... E dopo per dopo faremo un piccolo video. Molti li conosco, li conoscevo perché sono compagni di viaggio da quasi quattro anni ormai. Molti ho appreso che hanno deciso di coinvolgersi in questa esperienza per avermi ascoltato. E questo certamente vi ricordo, vuol dire che il lavoro di questi quattro anni non è stato vano. Io però vorrei spiegarvi un attimo qual è il progetto del popolo e della famiglia e raccontarvi un po' anche la genesi di questa esperienza. Perché vedete, dobbiamo anche capire che senso ha essere qui e fin dove arriva il nostro progetto, la nostra volontà di combattere. Tutto nasce nei due family day, quello del giugno 2015, in difesa di figli, contro gender, ma soprattutto quello del 30 gennaio, cioè contro il progetto di leggere Cilina, che purtroppo come sempre è stato approvato. Soprattutto l'ultimo, quello del circo massimo, che tra l'altro ricordate che anche dagli avversari è stata riconosciuta quella come la più grande manifestazione di popolo da dopo guerra d'oggi. Perché lì ci sono state famiglie che hanno pagato il viaggio, dalla Sicilia, dalla Sardegna, non c'era nessun sindacato, nessun partito, non c'era neanche la CEI, come nel 2007 che finanziamo. E quindi è stato ancora più doloroso constatare che dal punto di vista pratico, operativo, quel family day è fallito, perché lo scopo del comitato era bloccare la legge, come sapete purtroppo la legge non è stata bloccata. Anche se non possiamo dire che è stato un fallimento, perché lì è nata una rete, è nato un popolo, è nato anche più via. Che cosa abbiamo capito noi? Abbiamo capito due cose. Cioè l'esito infelice di quella manifestazione ha certificato due morti. La prima morte è la teoria, non so se la ricordate, della diaspora dei cattolici in politica, il discorso ruiniano per cui bisognava sparpagliarsi un po' dappertutto, perché dall'interno i cattolici sarebbero stati il lievito che avrebbe modificato, purtroppo quel lievito non ha funzionato. Io conosco anche alcuni cattolici del PD, dei venti senatori del PD, ci sono alcuni anche bravi, che ci credono neanche io. Ma quando è scattato il comando del padrone, tra la fede e la poltrona, scelto la poltrona. E sapete quanti erano tutti i cattolici sparsi tra e là, da destra a sinistra, quanti senatori? Un centinaio. Ma voi immaginate se questi cento fossero stati tutti in un gruppo unico, sarebbe stata una digla. Una digla. Sparsi così, sono diventati praticamente insignificanti. La seconda certificazione di morte è stata il fatto che, purtroppo, anche mobilizzazioni così significative, massicce come quella, non sono riusciti a condizionare la critica. A me ha sempre colpito il commento di Renzi, a 5 milioni, poi mi ha detto che ci sono quasi 2 milioni di persone a 5 milioni. Sapete cosa ha risposto lui? 2 milioni? Anche 4, 5, 6 milioni. In Parlamento quello che conta sono i numeri, io i numeri, e vado avanti. Lì si è capito allora che l'alternativa era solo tra continuare ad andare in piazza, magari, davvero essere 6 milioni la prossima volta, ma senza nessun effetto, oppure tentare di andare a cambiare il numero uno. Questa è l'unica alternativa. Dopo il tradimento dei sedicenti parlamentari cattolici abbiamo deciso di costituire il popolo e la famiglia, cioè dare a quel popolo una rappresentanza politica, l'unica affidabile, con principi non negoziabili. E' nato così il piazza, perché guardate, la cosa importante è che bisogna capire, e farlo capire magari anche a qualche sacerdote, che la politica, il Parlamento, non è più, come gli anni 70-80, il luogo dove si decide l'ordinaria amministrazione del vero pubblico. No! E' diventato il luogo dove si decide la visione antropologica dell'uomo. Come nasci, fecondazione artificiale, come muori, non per asia. Chi sei? Maschio, femmina, uomo, donna, gente. Che cos'è la famiglia? In un Parlamento dove chi di voi ha tempo stasera venga a Mestre, o avrà un incontro anche con il cantante Poglia, e vedrà il video del senatore della Repubblica Carlo Martelli, che in serato parla dei matrimoni multipli, 4, 5, 6 persone che si possono sposare. O davvero è il luogo dove è stato depositato in Commissione Giustizia del Senato il disegno di legge 1155 sull'attività di successo. Oggi, come si fa a, per chi ha anche una prospettiva di fede, a non avvertire l'esigenza di portare la luce della fede, ma io direi addirittura della ragione, in quel luogo dove si decide la visione antropologica dell'uomo. O come si fa a dire che la politica non c'è per lui? Anzi, perché è una prospettiva di fede? Attenti! Perché se a qualcuno di voi il Padre Eterno ha dato qualche risorsa, in più rispetto agli altri, andate a rileggervi la parabola italiana. Quando andrete nel di là, vi chiamerà, vi farà vedere il video del senatore Carlo Martelli, che il senatore delira sui matrimoni multipli, e vi dirà, scusa, io ti ho dato questo, 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 questo. Ma tu dovevi? Quando lì facevano carne da porco della visione di un uomo. Cosa riscontrerete? Eh, ma il Paolo ci ha detto che quella politica non funziona così, sapete. Oggi noi stiamo vivendo una rivoluzione antropologica, ripeto, che a tempo stasera venga a Mestre e guarderà le ultimissime novità di settimana scorsa, perché è veramente un principio. Tra l'altro c'è un'accelerazione che è inquietante, sarà il 2017, saranno 100 anni di Fatima, è inquietante, è quasi quotidiana. non si sa se piangere, ridere. Venite stasera. E noi dobbiamo fermarla a questa rivoluzione antropologica. E l'unico modo per fermarla è quello di andare lì, nel luogo dove si decide la visione antropologica e l'uomo, c'è il Parlamento. Ecco perché, allora, qual è stata l'idea del progetto? No, abbiamo abbandonato e scartato subito la prospettiva di fare un partito personalistico. amato di nuovo il figlio. Per evitare la fine che hanno fatto questi partiti, come quello di Giuliano Ferraro, Mark D'Alan, cioè un partito personale che prontasse subito alle politiche, sarebbe stato un naufrato. Abbiamo imparato la lezione del Movimento 5 Stelle, perché notoriamente i figli delle tenebre sono molto più scalti di quella luce. Che cosa hanno fatto loro? Sono partiti a livello di elezioni amministrative, vi ricordate? La prima volta, dappertutto, hanno perso comunque, tranne Parma, perché c'era Pizzarotti, e hanno creato una rete, sono partiti da lì per poi arrivare a dove sono arrivati. E che cosa li ha premiati? Che hanno fatto una proposta culturale molto forte, senza compromessi. Quando, avendo perso ovunque al primo turno, sono andati andando a taggio, e sono stati coccolati ovviamente da tutti, loro hanno fatto nomi e cognomi, tizio ci ha offerto il vice sindaco, il caldo l'assessorato, il sempronio la presidenza della partecipata tale, ma noi abbiamo detto no. Perché? E questa coerenza purtroppo ha pagato tutti. La gente ha capito che c'era gente disposta, persino politici disposti, a rinunciare una controlla. Questo lo dobbiamo fare. Dobbiamo partire da queste realtà e oggi, a un anno di distanza, ci troviamo in una situazione interessante. Pensate che tutto il nord, le città più importanti di tutto il nord, hanno un candidato sindaco come Filippo. Il Veneto a Verona, la città più importante, la Lombardia a Monza, con Emanuela Ponti, la città più importante della Lombardia, e il Piemonte a Alessandria, con Emanuele Locci, e poi abbiamo anche la Liguria, con il Gisemmo. Questo è il progetto, per cui l'appuntamento più importante sarà l'anno prossimo. noi stiamo creando le condizioni per fermarla, questa rivoluzione otrologica. E, attenzione, adesso è interessante quello che sta accadendo, perché quando ci siamo presentati a livello amministrativo locale, focalizzando ovviamente il cuore della vicenda che per noi è la famiglia, ci hanno detto no, ma c'è io a Eman, a parte che siete monotematici, una città, un paese, si amministra per 160 gradi, comunque non ci sono competenze a livello locale, semmai nazionale, non ci hanno capito. Poi, stranamente, piano piano, tutti hanno cominciato a parlare di famiglia. la destra, la sinistra, non ci sono le persone per sì, noi, hanno capito che forse, avevamo ragione noi, che forse, davvero, la famiglia è la cellula della società. Anzi, come diceva il grande Aristotele e la sua politica, polis singhetae exoicom. La società è costituita dall'insieme di famiglia, anzi, letteralmente la griglia sarebbe polis, la città è fatta di famiglia, che sarebbe un bello slogan tra l'altro come candidato sindaco ad utilizzare. Polis singhetae exoicom. Quindi, si è capito e adesso, piano piano, stanno percependo qual è stata la nostra grande intuizione, quella di San Giovanni Paolo II. Quando San Giovanni Paolo II andò a visitare l'assemblea regionale del Lazio, i politici laziali della regione, lui disse, eh, voi sapete quanto accorre sta a cuore a me la famiglia? Ma ricordatevi che la famiglia, si usò una metafora eccezionale, la famiglia non è un problema della società, è il prisma attraverso cui guardare tutti i problemi sociali e politici. È la modalità con cui tu affronti perché tutto passa di lì. Adesso si fa bene, tutto passa dagli amici perché se mia figlia non si può sposare perché non ha lavoro uccide sua famiglia, se non può uscire di casa perché c'è un problema di sicurezza, uccide della sua famiglia. Tutto passa. Ave ragione se già non è paura. E adesso lo stanno piano piano capendo. La cosa simpatica è che ovunque in Italia, in tutti i comuni, adesso quelli che hanno a cuore che la famiglia stanno andando dai vari candidati a farsi firmare degli impegni sulla famiglia, dei parti, eccetera, eccetera. Noi siamo gli unici però che non abbiamo bisogno di firmare nessun patto semplicemente perché siamo l'originale. Ora se qualcuno ha a cuore la famiglia, i nostri amici titelo, state attenti perché questo non è il momento di strappare improbabili promesse in campagna elettorale poi è il periodo come diceva Dante delle promesse lunghe con la tender corto. vi prometto di tutto. Vi ricordate a cui voi si ricorda Lamoretti che riuscì a fare questo capolavoro di firmare contemporaneamente il patto delle famiglie compadrine e poi del forum delle famiglie adesso tutto vi prometto non andate a cercare improbabili impegni venite da un'originale se avete a cuore della mia famiglia. Due cose non abbiamo tanto tempo ma importanti quindi capite l'originalità il secondo aspetto fondamentale è perché correre le sole e quindi sfatare questo discorso del voto utile e no ragazzi noi dobbiamo dare voce a un popolo che su questi temi vita famiglia educazione non vuole compromesso solo per darvi un piccolo flash avete sentito che in Umbria è passata purtroppo quella legge infame liberticida illiterale sull'omofobia no? Amici quella legge è passata con l'ascensione di Forza Italia Matteo Salvini segretario federale della Lega che ha detto tra l'altro che il primo provvedimento che farà quando andrà al governo sarà il papponaggio di Stato cioè la legalizzazione delle case chiuse e però è anche quello che ha votato convintamente per il divorzio Lampo che è stata l'ultima picconata alla famiglia e su questo ha lasciato libertà di coscienza da dire è quello che ha affermato che la pillola RU486 non si può definire una pillola assassina anzi l'aborto chimico è molto meglio e su questo tema ha lasciato libertà di coscienza sull'eutanasia è intervenuto Zaire a favore la legge libertà di coscienza e allora noi c'è un popolo che è stufo stufo che su temi e principi non negoziabili come vita famiglia educazione si possa parlare di libertà di coscienza o astensionismo ma di coscienza parlare allora entrare nella logica di coalizione significava semplicemente dire va bene mettiamoci tutti tutti insieme appassionatamente per andare a raggiungere il potere per spartire il potere ma non è nella nostra corda perché questa logica sapete cosa vuol dire? sì va bene mettiamoci tutti insieme però non parliamo di eutanasia non parliamo di RU non parliamo di divorzio breve non parliamo di prostituzione se non gli alleati ma che roba è bella allora oggi ci vuole una proposta culturale forte guardate bisogna fare come fecero i radicali quanto hanno avuto in termini di consensi elettorali qui c'è qualcuno che ha esperienza politica i radicali quanto hanno avuto? un mezzo hanno cambiato in Italia? purtroppo sì come? con una proposta culturale fortissima velenosa devastante esiziale mortale ma forte e affascinante normale è una militanza che li ha portati sciacò a bere per sigo l'urinare a digiunare a lavagliarsi allora domanda se sono riusciti i radicali coi valori falsi perché non dobbiamo riuscire con i valori dei valori solo che ha una condizione però ha una condizione ci vogliono radicali cattolici cioè tu devi avere una proposta senza se e senza ma che non sgarri e soprattutto una militanza avere il coraggio di fare anche blitz su genere così si vince e si convince altrimenti sapete cosa resta? l'unico orizzonte valoriale della politica oggi credetemi il dio denaro mammola il vitello d'oro i soldi guardate che c'è solo questo oggi che ha con una destra sinistra centro sopra sotto l'unico orizzonte valoriale cosa è rimasta la sinistra la schiavitù salariata di marx la questione sociale ma perché banche cop appalti molti paschi è quella roba lì è quella roba lì se tu togli Dio una dimissione trascendentale poi sapete qual è l'emergenza come dico sempre con la E-maius con il problema numero uno in Italia il problema dei problemi non è la crisi non è il lavoro non è l'immigrazione non è la sicurezza ricordatevi per piacere i dati di 2015 sul tasso di notarietà vedo io a fronte di 653.000 decessi occhio alla cifra 653.000 decessi ci sono stati 488.000 nati di cui 128.000 stranieri cioè 360.000 bambini italiani nati contro 653.000 morti questo gap questa difesa non è più matematicamente colmabile ci vorrebbero 100 anni ci dicono demografi e soprattutto un sistema economico che neanche ci sognano noi siamo già tecnicamente scopassi 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 abbiamo fatto già la fine di tutti e ditemi voi se non è il problema numero uno quello della sopravvivenza di un popolo qual è ma quanti secondi sta dedicando la politica italiana a questo tema dell'emergenza sapete quanti e quando io ho chiesto un personaggio politico importante un segretario di governo questo è un personaggio che no ma questo siamo già spassi sapete cosa mi ha risposto sì sì è vero ma quando muoio io per me finisco e no ma ha ragione perché se tu hai una dimensione che è soltanto materiale che te ne frega tra 20 e 30 e 40 anni e io quando ho avuto questa risposta ho capito che se esistono le dimensioni materiali e non una procedentale è così ho capito cosa diceva De Gasperi perché vedete noi nel dopoguerra abbiamo avuto dei politici nella fame con il pezzo al sedere ma ci avevano una vita nel bene nel male perché i bambini ho detto di Gasperi disse sapete qual è la differenza tra un politicante e lo statista che lo statista guarda le future generazioni il politicante guarda alle prossime elezioni l'unico lasso di tempo che tu hai è quello del prossimo Giro di Giostra questi non ragionano più di 5 anni al Giro di Giostra e non è così moriamo assolutamente dobbiamo riportare al centro della politica l'unica prima cosa che conta il destino di un popolo ma soprattutto il bene comune dentro la cornice valoriale del popolo della famiglia che è fatta dal compendio dell'Utria Sazione della Chiesa tra l'altro io ho scoperto incredibilmente che ma voglio essere generosi l'80% dei cattolici ho scoperto che non sa cos'è il compendio molti dico sì vabbè ma lì lo confondo con i sacramenti la teologia e la dottrina no no è un programma politico perfetto si parla di ambiente di migrazione di lavoro di economia sconosciuto perfetto un programma politico perfetto tra l'altro condivisibile anche da chi non ha un obiettivo di fede perché sono principi che attraverso un uso retto della ragione e della coscienza linda ci si può arrivare si può arrivare venite stasera il compito tra l'altro che a proposito abbiamo iniziato non ho fai miei idee ma a proposito di quella miseranda legge genna sapete che ha bloccato per sei mesi il Parlamento sei mesi questo bloccato e sapete Repubblica Repubblica è non il giornale Repubblica attitolato poco un tempo fa flop il flop dell'Unione sapete quanti sono state tutte le milioni civili 2800 no 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 sapete quanti sono le coppie sposate anche anche comune comune ci rimette religiosamente quante sono le coppie italiane 29 milioni sì 14 milioni di coppie quindi 30 milioni di persone 14 milioni di coppie 2800 allora sei mesi e quando vi dicono che è a costo zero questa cosa no per cortesia andate a vedere la legge al coma 66 dove prevede la copertura finanziaria perché ogni legge deve avere la copertura finanziaria hanno già da bloccato 130 milioni di euro spalmati in 10 anni li vedete lì anno per anno già con i capitoli bloccati 130 milioni sapete con 130 milioni quante casette per quei disgraziati di Norcia che fuori aspettano dentro l'hangar non gli hanno dato le casette perché non ci sono i soldi non ci sono i soldi per i demograzi di Orcia e ci sono 130 milioni milioni di euro per questa roba qua una pura operazione ideologica perché vuol dire che non c'era una reale esigenza stiamo parlando dello 0,00 e qualcosa per cento se noi siamo qui in un momento particolare in cui si vive questa rivoluzione antropologica crisi assoluta legge un'altra cosa noi abbiamo detto quando siamo partiti un anno fa soprattutto abbiamo avuto tanti conto non molto i nemici perché quelli per scontato che ci sottovalutavano ma soprattutto il fuoco amico e noi al fuoco amico diciamo guardate vi imploriate abbiate la saggezza di Gavaliere fateci andare avanti poi se questo è un progetto personale morirà come giusto che deve morire come devono morire e muorono tutti i progetti personale ma se è un progetto di Dio che non vi capisci di andare contro Dio oggi siccome l'albero si giudica dai frutti questo frutto meraviglioso di Conegliano ci conferma che siamo tutti i giusti allora un parco di un'azione di un'azione di un'azione di un'azione e per questa ragazza è giovanissima no non ci hanno dei punti che devono andare a lavorare no sono i tuoi piedi sono i tuoi piedi sono i tuoi piedi sono i tuoi piedi questo magnifico ragazzo bravo vai Lorenzo bella 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 ok forse candidati ok 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 ok